Domani sabato dalle 5 alle 7 della mattina nell'intera area di Via del Longaro a Marghera gli operatori di Veritas procederanno alla rimozione di zanzare, larve di zanzare che potrebbero essere infette. L'ordinanza è del Comune di Venezia che ha disposto la profilassi di quell'area di Marghera dopo aver ricevuto l'informativa dell'Ulsa 3 relativa a un caso di influenza da virus Zika contratto da un cittadino durante un viaggio all'estero. L'uomo sta bene e dopo qualche giorno di ricovero in ospedale è già tornato a casa ma l'iter della prevenzione è stato attivato come da protocollo. Gli operatori Veritas effettueranno trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai presenti anche nelle aree e cortili privati. Durante le operazioni le finestre delle abitazioni dovranno restare chiuse, specie quelle affacciate in strada. Le acque stagnanti di tombini e pozzetti di raccolta saranno trattate con appositi prodotti larvicidi e sarà indispensabile liberare le aree verdi, anche i giardini privati e svuotare le piscine dell'acqua. Il Comune avverte di raccogliere la frutta e la verdura presente negli orti e coprire tutte le piante con teli in plastica.